Allora, iniziamo invece oggi parlando di il centro impostazioni, perché siamo, se volete, tornati un po' indietro, nelle precedenti puntate, nei precedenti meeting abbiamo sempre parlato di come utilizzare JAWS in questo e in quell'altra applicazione, in questo frangente e in quell'altro frangente, invece magari il centro impostazione e l'utility tastiera è, se volete, un po' l'ABC dell'uso di JAWS. Però trovo che ci siano delle novità anche in questi ultimi anni e delle impostazioni o l'utilizzo comunque di alcune impostazioni che se conosciute possono davvero fare la differenza in alcuni frangenti. Allora, io mi sono scritto una scaletta degli argomenti che tratterò, che ho arricchito con alcune delle richieste, delle risposte che mi avete dato via email nella giornata di oggi. A non a tutte do una risposta e vi spiego anche perché in alcune in effetti probabilmente è da dedicare un meeting approfondito e quindi mi scuserete ma insomma ne parleremo poi magari in un'altra occasione. Premetto per chi a questo punto poi magari decide di andarsene che Tommaso oggi non ci sarà, aveva un impegno personale. Allora, parliamo anzitutto del centro impostazione. Come si accede al centro impostazione? Al centro impostazione si accede, intanto condivido il mio schermo, il mio audio in modo che possiate seguirmi. Allora, ci sono un paio di modalità per accedere al centro impostazione. Dall'altro, è facile accedere al menu di JAWS, quindi Utility. Sentite il mio JAWS? Sentite il mio JAWS? Io non lo sento più tra l'altro. Non si sente. L'ho sentito per qualche secondo. Ah, infatti... Non lo sento più neanche io. Anch'io l'ho sentito per qualche secondo e poi non l'ho più sentito. Esci da JAWS finestra di dialogo. Versione JAWS. Ora sì. Ora sì, ma adesso no. Ora sì. Ma non capisco. Ah, aspetta. Vedi con... Stop share. Aspetti, eh. Che probabilmente... Screen... Ecco qua. Ometting, ometting controls. Lo sentite, eh? Sì. Sì, perfetto. Allora... Glass professional, versione Glass 2000. Allora, il primo sistema per entrare nel centro impostazioni è... No, e qua poi non si sente più. Quando sono dentro al centro impostazioni... Cioè, allo schermo di JAWS non lo sentite più. Va bene. Allora, ve lo dico. Escai. Escai. Il primo modo per accedere al centro impostazioni è la... Ah, ma credo che sia perché ho fatto casino oggi nelle impostazioni. Vabbè. E' accedere al menu Utility di JAWS e quindi accedere alla voce centro impostazioni. Escai. Escai. Il secondo sistema è fare Insert F2. Esegui Utility JAWS finestra di dialogo. Lì, una visualizzazione. Esegui Utility JAWS e all'interno di questo elenco c'è anche... C. Centro impostazioni. A questo punto do ok. Invio. Versione JAWS 2020.2006. Escape. Glass professional. Versione JAWS 2020. Visualizzazione. Visualizzazione ad albero. Editazione digitale del... La seconda, l'ultima, l'ultima, ma per certi aspetti importante modalità per accedere al centro impostazione è Insert F6. Perché dico che è importante... Aggiungi nuova configurazione trattino, aggiungi nuova configurazione finestra di dialogo, nome configurazione editazione, finestra JAWS digitate del testo. Ho fatto Insert F6 da... Avendo il focus di JAWS all'interno della schermata di JAWS. Quando ho fatto Insert F6, mi apre il centro impostazioni, o meglio, mi vorrebbe aprire il centro impostazioni e la schermata che appare è, aggiungi nuova configurazione, JAWS ve l'ha letto, ma io ve lo ripeto, aggiungi nuova configurazione, il nome della configurazione è finestra JAWS. È finestra JAWS. A questo punto posso dare l'ok. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che creerò delle impostazioni ad hoc specifiche per la finestra di JAWS. Per la finestra di JAWS in questo caso perché è la finestra che avevo il focus. Ma, ovviamente, questo vale per qualunque finestra. Quindi, se ho Chrome aperto, mi apre un centro impostazioni, le cui impostazioni saranno valide solo all'interno di Chrome, piuttosto che per Outlook e così via. Sottolineo che il, come dire, il, le, non può, allora, io posso creare delle impostazioni per qualunque software, per qualunque applicazione, anche che non abbiano script, ok? Questo però, quello dell'insert 6, è l'unico sistema davvero efficiente per poter creare delle impostazioni specifiche per quelle applicazioni. Mi spiego meglio. Non posso io salvare dal centro impostazioni delle impostazioni specifiche per un programma senza averlo aperto in questo modo, ovvero insert 6, dal momento in cui il focus di JAWS era all'interno di quel programma. Perché? Perché JAWS, in questo modo, salva il file di quelle impostazioni con un nome che lui conosce. Cioè, lui assegna in automatico un nome perché aprirà in automatico quelle impostazioni quando si accede con JAWS all'interno di quel programma. Le impostazioni, invece, che vengono caricate in automatico da JAWS sono le impostazioni di default. Torno un passo indietro, ovvero Finestra JAWS, aggiungi nuova configurazione, trattino, aggiungi nuova configurazione, finestra di dialogo, nome, configurazione, editazione, finestra JAWS, digitate del testo. In questo momento, JAWS mi dice che se voglio creare una nuova impostazione per la finestra di JAWS, devo dare ok. Se invece do ESC, quindi annullare, Mi apre il centro impostazioni e me lo apre per le impostazioni di default, ovvero per tutte le applicazioni. Ve lo faccio verificare facendo un shift tab, poi vi spiego perché. Applicazione due punti, casella combinata, default aperta parentesi, tonda tutte le applicazioni, chiusa parentesi. Ok, questa è una casella combinata, una Keywords, la prima voce è default, tutte le applicazioni. Posso selezionare tutte le applicazioni, posso selezionare con la freccia su e freccia giù, come al solito, posso selezionare una qualunque applicazione per cui c'è già un'impostazione, un'impostazione o uno script, se credete. Ripeto, però, questo non mi proibisce di creare un'impostazione specifica per un programma per cui non ci sono script. È una cosa che si può fare, insomma. Quindi, la prima cosa che caratterizza il centro impostazione è la selezione dell'applicazione per cui sto salvando le impostazioni. Con un tab, torno al campo editazione, a cui posso sempre accedere con CTRL più E. È un campo editazione fondamentale, perché è un campo in realtà ricerca. È un campo ricerca che mi serve per che cosa? Per ricercare un'impostazione all'interno del centro impostazione. Il centro impostazione è stato negli anni popolato da tantissime impostazioni. A volte anche io mi perdo, non mi ricordo più dove è stata messa un'impostazione piuttosto che un'altra. Invece il campo editazione, quindi di ricerca, mi porta direttamente a quella impostazione. Andiamo, per esempio, subito a vedere il riscontro in digitazione, che era la prima impostazione di cui volevo parlare. Scrivo banalmente riscontro. Faccio una freccia giù. 11 risultati ricerca casella elenco caratteri utente. Usate le frecce per selezionare un elemento. Premete spazio per passare tra le scelte disponibili. Riscontro in digitazione. Ok. La prima voce che mi ha trovato è proprio il riscontro in digitazione. Ne ha trovate 11 in totale. La prima voce che ha trovato è proprio il riscontro in digitazione. Mi dice che è selezionato caratteri, come avete potuto sentire, visto che Gios ha letto lettera per lettera quello che ho digitato. Le opzioni del riscontro in digitazione sono, ve lo dico visto che volevo parlarne, sono disattivato, ovvero non mi dà alcun riscontro su ciò che scrivo, oppure caratteri, che è la mia impostazione, ovvero ogni lettera che io digito mi viene letta. In realtà sarebbe ogni tasto che premo sulla tastiera mi viene letto. parole, quindi mi legge la parola che ho appena finito di scrivere, non appena do spazio, oppure ho caratteri e parole, quindi mi legge lettera per lettera, mi cita la lettera che ho appena premuto, ma quando do spazio mi ripete anche la parola che ho finito di scrivere. Il centro impostazione è fatto in questo modo, io agisco sulla voce, sull'impostazione che ho selezionato, in questo caso il riscontro in digitazione, con la barra spaziatrice, quindi in questo momento è selezionato caratteri, do una volta lo spazio. Spazio. Ok, si è spostato, purtroppo non me lo legge Joe, mi spiace, è colpa di questa zoom, o forse anche di qualche cosa che ho selezionato oggi, ora è selezionato parole, e quindi spazio caratteri e parole, e così via. Spazio. Questo è il modo in cui interagisco. Se invece do un tab, editazione sola a lettura, usate i pulsanti radio in questo gruppo per decidere qual... vado alla descrizione di cosa sia quell'impostazione. In questo caso stava leggendo che cosa riguarda il riscontro in digitazione, e mi legge, usate i pulsanti radio in questo gruppo per decidere quanto riscontro ricevere quando digitate e premete i tasti. Ok? Più altre cose, ovviamente. Per esempio, vi dice, e ve lo ricordo, che potete cambiare il riscontro in digitazione, un tempo si usava dire a caldo, quindi mentre state digitando, con insert e il 2. Con insert e il 2, switchate tra queste possibili impostazioni di riscontro in digitazione. Ok? Quindi, una volta che ho selezionato un'impostazione, se do tab, mi sposto al campo solo lettura, per poter leggere che cosa riguarda quella impostazione. ci sono domande in merito a questa cosa? se non ci sono domande, proseguo. No? default aperta parentesi, tonda tutte le applicazioni, metti in controls. Default aperta, 11 risultati, ricerca, editazione, riscontro, digitazione. Control e, mi sono spostato su digitazione, e c'era scritto riscontro, a questo punto, vuoto, cancello. Ok? attenzione, alcune, io ho selezionato come applicazione default, quindi per tutte le applicazioni, per avere la possibilità di parlare di tutte le applicazioni, non di tutte, ma di quelle che avevo selezionato, impostazioni presenti dentro il centro di impostazioni. Perché dico questo? Perché alcune impostazioni sono disponibili solo se selezionate e valide, quindi per tutte le applicazioni. Poi magari, in un paio di esempi ve li faccio. Quindi non si può modificare alcune impostazioni solo per quella applicazione, per quel programma. Ok? Ve lo dice, Jaws, perché vi dice che quella impostazione non è disponibile. Ok? Sappiate che se volete modificare quella impostazione, dovete selezionare come applicazione default, ovvero tutte le applicazioni. L'elenco delle impostazioni è, come dice Jaws, una classica struttura d'albero, sentite. Visualizzazione d'albero, livello 0, utente, chiuso, 1 di 26, per spostarvi o aprire gli elementi, usate le frecce, utente. Ok. Primo livello, o livello 0, è utente. Apriamo questo livello, livello, pardon, con la freccia verso destra. Utente. Qua ci sono... Annuncia aggiornamenti, barri di... Allora, questa è la prima, la prima delle impostazioni, è annuncia aggiornamenti, barri di avanzamento. Annuncia aggiornamenti, barri di... Annuncia aggiornamenti, barri di... Annuncia aggiornamenti... Visualizzazione. Quello che vi volevo parlare era... Riscontro indigitazione. Riscontro indigitazione, che abbiamo già visto. L'altra cosa che volevo vedere era... Modalità tasto insert. Modalità tasto insert. Di default è disattivato. Se attivato, e vi ricordo, per attivarlo e per disattivarlo, si usa la barra spaziatrice, cosa succede? Succede che il tasto insert funzionerà come tasto permanente, ovvero, per chi non sapesse cosa sono i tasti permanenti di Windows, ovvero, qualunque tasto premuto successivamente, al premere una volta il tasto insert, sarà come se l'avessi premuto in contemporanea al tasto insert. Ovvero, se io non riesco, perché magari alcune combinazioni di tasti sono complicate, o per me difficoltà a premere, per esempio, l'insert 6, per accedere al centro impostazioni, specificatamente da un'applicazione per salvare delle impostazioni per quell'applicazione, posso attivare questa modalità tasto insert e posso lavorare in questo modo. Schiaccio insert e quindi il 6. A questo punto mi aprirà comunque il centro impostazione. Altro esempio, sto navigando in internet e per accedere all'elenco dei link devo schiacciare contemporaneamente insert F7. Se questa operazione mi riesce difficile, posso abilitare questa modalità tasto insert, premere tasto insert e poi l'F7. Tutti i tasti che premo successivamente al tasto insert verranno gestiti da Jaws come se premuti insieme al tasto insert. Questo potrebbe semplificarmi naturalmente la vita. Ci sono domande su questo aspetto? Non vedo mani alzate. Sì Paolo, esattamente. Come se lo tenessi premuto? Esattamente così. Non riesco a leggere la vostra chat, scusatemi, la leggo solo sporadicamente. Modalità tasto insert Modalità tasto insert l'abbiamo vista. Altra cosa molto interessante. Mostra visualizzatore virtuale a schermo. Allora, mostra visualizzatore virtuale a schermo. È un'impostazione di default attiva che che cosa fa sì? Fa sì che alcune alcuni testi che Jaws deve mostrare e quindi puoi leggervi ovviamente vengono mostrati nel virtual viewer ovvero visualizzatore virtuale a schermo. Faccio un esempio su tutte. Quando io sono all'interno di una pagina web e schiaccio insert F1 adesso ve lo faccio. passaggio passaggio ok sono all'interno di Chrome e alla pagina di del Corriere della Sera se io faccio insert F1 Jaws potrebbe non riconoscere questo controllo link per indicare a Jaws il tipo di controllo premete Jaws escape con la condivisione dello schermo scusate questa operazione non riesce perché Jaws ha dei problemi a riconoscere quello che c'è a schermo visualizzato ma ad ogni modo mi dà questo messaggio diciamo di allerta e me lo presenta nel virtual viewer ovvero una sorta di il virtual viewer dovete pensare a una sorta di notepad ok senza alcuna menu ma semplicemente un foglio bianco in cui c'è il testo che presenta Jaws che mi sta leggendo Jaws mi posso muovere con le frecce su giù destra e sinistra o usare leggi leggi di Jaws e così via ok se disabilitiamo e torno al nostro centro impostazione se disabilito l'opzione mostra visualizzazione virtuale a schermo quindi la disabilito vi ricordo con lo spazio perché di default è attiva per esempio l'insert F1 il testo che Jaws ci deve leggere non viene presentato a schermo ma viene soltanto letto da Jaws ok quindi può essere utile avere questa questa opzione attiva soprattutto in ambienti di lavoro dove magari sto collaborando o scolastici dove magari sto collaborando con una persona che ho accanto che magari non sente come in questo modo come in questo momento per me le persone che mi sono accanto la mia la mia sintesi vocale perché banalmente ho attivato mostra visualizzazione meti in contro ho attivato cioè scusate ho messo su delle cuffie quindi non sento la sintesi vocale c'è un modo per fare un copy and call del virtual viewer ah una buona domanda Mattia ci provo adesso passaggio da allora javs potrebbe non riconoscere controllo allora vado all'inizio e faccio shift selezionato javs pot selezionato l'inter selezione copiata degli appunti a schermo non si vede questa selezione lo dico per chi dovesse seguire anche visivamente questo 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 meeting ma javs mi informa che ho selezionato il testo e l'ho e l'ho copiato quindi sì con i soliti tasti quindi ctrl c e lo shift insomma per selezionarlo passaggio assolutamente assolutamente sì allora torno alla come per qualunque e lo ricordo per qualunque struttura d'albero torno indietro di un passo con la freccia verso sinistra e con ulteriormente la freccia sinistra chiudo questo questo capitolo questo ramo ok accediamo quindi alla sezione a livello 0 web html pdf suona insieme lo dico per magari coloro che non ci facessero attenzione perché il web l'html e il pdf utilizzano tutti e tre possono utilizzare tutti e tre il cursore pc virtuale web html pdf all'interno della struttura web html ho diversi diverse voci la prima lettura lettura allora la prima è livello di prolissità web livello di prolissità web ok allora è interessante questo questo aspetto ve lo faccio cerco di spiegarvelo con semplicità io ho la possibilità di selezionare come livello di prolissità alta media o bassa e questa è il primo il primo diciamo la prima selezione quindi con lo spazio io ho la possibilità di selezionare ho la possibilità di selezionare la il livello di prolissità tra alta media e bassa è evidente che alta media e bassa sono come per per jose in altre nella lettura per esempio sono come la prolissità in generale quindi mi legge più o meno la cosa interessante è che configurare i livelli di prolissità web configurare i livelli di prolissità alta media punto 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 e bassa ok posso configurare che cosa se do l'invio in questo caso mi si apre una non era l'invio che devo dare perdono lettura lettura media punto invio jazz professional version invio devolvist e la prolissità sintesi e la moda web web la lettura configura alta spazio preferenze per la prolissità alta del cursore allora per ogni livello di prolissità ok io ho la possibilità di chiedere a jose di leggermi o meno degli oggetti che tipicamente trovo all'interno di una di una pagina web questo siamo a livello più alto quindi mi legge tutto la prima è per esempio è annunci e le iscrizioni quindi chi scrive una pagina web può indicare nei tag del testo alternativo o del testo descrittivo per alcuni elementi presenti all'interno della pagina web banalmente all'interno della pagina io posso inserire un'immagine posso inserire di quell'immagine non soltanto un testo alternativo ma anche una descrizione ok quindi una descrizione più estesa e in questo caso nell'impostazione più alta jose me la legge la seconda voce è barra degli strumenti quindi laddove ci fosse degli strumenti ovvero un menu sempre presente e indicato come barra degli strumenti ovviamente da colui che scrive il codice all'interno di una pagina web io posso dire a jose di leggerlo oppure di saltarlo a piepare di passare direttamente al contenuto della pagina in cui sto navigando e così via ci sono una serie di voci che io posso selezionare o meno ok blocchi virgolettati le caselle di gruppo e così via vi ricordo che per leggere la descrizione di ognuno di questi oggetti o controlli do un tab editazione sola lettura usate i tasti di lettura per leggere del testo e come avete sentito le stringhe di inizio e fine sono mostrate come selezionate questo elemento per sapere dove iniziano e terminano le barre degli strumenti ok avevamo selezionata barra degli strumenti e in questo caso mi legge appunto l'inizio e la fine della barra degli strumenti che può essere utile onestamente ricordatevi di questo tab perché è importante se tolgo o metto qualche cosa poi dopo devo naturalmente capire che cosa ho fatto perché se no poi dopo risulta risulta più difficile puoi tornare indietro diciamo così questa è la configurazione dei livelli di prolissità e la selezione dei livelli di prolissità poi l'altra cosa che può essere interessante è il to ignora il testo ripetuto sulle nuove pagine ignora il testo ripetuto sulle nuove ignora il testo dividendo lo schermo visualizzazione ad albero jose legge male insomma il testo ignora il testo ripetuto sulle nuove pagine questo cosa vuol dire questo vuol dire che che io posso chiedere a jose laddove viene ripetuto più volte un certo testo che jose lo salti a pie pari questo che cosa ci sono dei pro e dei contro infatti di default è selezionato no ci sono dei contro che sono perdo un'informazione importante ci sono dei pro ci sono alcune pagine dove laddove sono state fatte molto male dove per esempio i link allo stesso indirizzo sono ripetuti più volte è ovvio che questa è un'informazione ridondante sia per l'utente religioso sia anche per l'utente normovidente questo è evidente cioè è un errore è chiaramente un errore ciò nonostante l'utente religioso può far saltare questi testi ripetuti l'altra informazione che invece volevo farvi leggere è leggi i tasti di accesso nelle pagine web una delle impostazioni contenute in web lettura è leggi i tasti di accesso nelle pagine web questa come dire questa questa voce mi fa leggere laddove sempre il programmatore HTML la avesse inserito mi fa leggere qual è il tasto di accesso rapido per accedere a quella pagina attenzione naturalmente questa cosa si fa quasi esclusivamente per link o controllo di un form fate attenzione l'abbiamo visto anche l'altra volta all'interno di YouTube questi tasti di accesso rapido possono essere indicati YouTube per esempio li indicava ma se io premo e utilizzo quel tasto se non ricordo male era la K per esempio dentro YouTube per fermare o far ripartire il filmato se io schiaccio la K si impossessa diciamo così di quel tasto JAWS e lo blocca quindi qua io conosco qual è il tasto di accesso poi per utilizzare quel tasto di accesso potrebbe essere necessario disattivare il cursore PC virtuale e questo è tutto secondo me delle impostazioni importanti all'interno di ah no c'è un'altra c'è attiva web flessibile all'interno di questa di questa sezione web flessibile che cos'è web flessibile ne aveva già parlato in una precedente volta Tommaso web flessibile è una particolarissima possibilità perché non è un'impostazione in realtà ma è un particolarissimo strumento di di JAWS che attivo utilizzando insert spazio e quindi la X e che mi permette di creare delle regole per leggere o saltare alcune sezioni di una pagina web ok vi rimando a un'altra una lezione che abbiamo già fatto per capire se questa impostazione è per voi utile o meno questa impostazione è disponibile solo ed esclusivamente per le impostazioni di default quindi non posso salvarlo solo per un browser piuttosto che un altro e non posso neanche salvarlo solo per un dominio poi vi faccio capire anche cosa intendo per dominio per impostazione di dominio queste sono le impostazioni di lettura web html pdf poi ci sono le impostazioni di navigazione navigazione modalità navigazione intelligente la prima cosa è modalità di navigazione intelligente questo lo affronteremo in un altro momento se qualcuno di voi è interessato ne abbiamo già parlato è un po' complesso ma possiamo parlarne magari in un altro momento dedicandogli più tempo la seconda modalità presentazione del documento la seconda modalità la seconda invece impostazione di cui invece volevo parlarvi perché secondo me è molto importante è il layout ok come JAWS vi presenta il documento che sta leggendo il documento html ovviamente preselezionato c'è layout semplice e noi possiamo invece selezionare layout a schermo modalità seleziona spazio spazio sempre con lo spazio modifico l'impostazione JAWS vostro per chi di voi mi sta seguendo magari con il vostro JAWS vi dirà e vi leggerà la nuova impostazione quindi layout semplice o layout a schermo solo se però avete disattivato come di default la navigazione intelligente potete selezionare queste due tipologie di layout se è attivata la navigazione intelligente è preselezionato il layout a schermo layout semplice è l'impostazione di default e cosa vuol dire vuol dire che ogni singolo link ogni singolo oggetto viene messo da JAWS a capo a capo virtualmente ovviamente questo cosa vuol dire vuol dire che io per scorrere per esempio un elenco di link devo continuare a usare la freccia verso il basso freccia giù freccia giù freccia giù può piacere non piacere questo poi durante questa lezione non dirò e non darò suggerimenti perché perché è molto soggettivo e questo è il bello se volete di questa impostazione se invece io utilizzo layout a schermo JAWS cercherà per quanto possibile di ricreare il layout che visivamente io vedo a schermo ovvero nel momento in cui io digito freccia giù e quindi voglio che mi legga tutta la riga ok JAWS mi leggerà tutta la riga anche se dentro questa riga sono contenuti più link non si fermerà non mi chiederà di schiacciare di nuovo pagina giù scusate freccia giù per spostarmi al link successivo mi leggerà tutta la riga così come è presente a schermo indicandomi ovviamente se gliel'ho chiesto quali sono dei link se me li ho chiesto nella impostazione che avevamo visto prima ovvero nella prolissità della lettura degli come si dice degli elementi web ok quindi questo è molto importante se voi volete capire com'è presentato a schermo un certo documento web quindi una certa pagina dovete selezionare layout a schermo che non è l'impostazione di default l'impostazione di default è layout semplice altra cosa interessante queste sono impostazioni secondo me non importanti segui a schermo il cursore virtuale torna in cima se raggiungi la fine questa impostazione che di default è attiva è torna in cima se raggiungi la fine spiego cosa vuol dire se per esempio stiamo navigando all'interno di una pagina con dico non so la T per scorrere tra le tabelle perché magari è una la pagina di che ne so meteo di un sito di meteorologia che parla di statistica su quanto è secco all'estate allora se io continuo a premere T di default è attivo il fatto che io torno in automatico alla cima della pagina seppur quindi mi informa Jaws perché fa un suono e me lo dice che quella è l'ultima tabella presente che torna in cima alla pagina posso invece dirgli disabilitando questa 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 opzione di fermarsi lì quindi arriva in fondo alla pagina mi fermo lì non è che se schiaccio T va alla prima tabella contenuta in quella pagina si ferma lì finisco con le impostazioni web HTML PDF poi vi do la parola se se ne avete bisogno un'altra impostazione molto molto importante è questa tabelle tabelle allora all'interno trovate due opzioni la prima indica divisione colonne per il braille ok indica divisione colonne per il braille solo ovviamente utile per coloro che utilizzano un display braille collegato a Jaws mi indica in braille appunto la divisione delle colonne ok quindi mi è più semplice mi è più semplice se io la preferisco mi è più semplice se no no ma insomma sulla display braille mi viene indicata quando passo di colonne in colonna o di cella in cella se volete se sto navigando su una stessa riga la seconda impostazione è fondamentale informazioni presentazioni tabella allora mi dice quando pagina annotazione content render window z apri tolbar tomaso scusate che ritorno a tabella la seconda impostazione cioè ovvero informazioni presentazioni tabelle di default è solo per le tabelle di dati la seconda impostazione la seconda possibilità è per tutte le tabelle allora questo è un po' tecnico ma ci tengo che lo capiate bene quando ho iniziato a scrivere pagine html diciamo così si diceva che l'htmlista è uno che scrive tabelle perché perché quando io costruisco una pagina costruivo oggi ci sono altre tecnologie ma genericamente è ancora così quando io costruisco dal punto di vista grafico una pagina quindi quando creo la struttura il layout di una pagina io in realtà creo una grande tabella e le divisioni interne di queste tabelle queste sono tabelle di layout quindi non contengono dati sono tabelle di layout jose per questo motivo vi informa della presenza di una tabella solo per le tabelle che contengono dati è molto semplice individuare questo nel codice html è subito chiare quali sono le tabelle di dati e quali sono le tabelle di layout ma se invece siete dei tecnici magari e volete invece capire anche quali sono le tabelle di layout ecco che dovete selezionare la seconda possibilità cioè informarmi di tutte le tabelle e non soltanto delle tabelle di che contengono dati vi ricordo che se non avete attivato la navigazione intelligente all'interno delle tabelle html per navigare correttamente su giù destra e sinistra ok dovete tenere premuto control alt e quindi appunto la freccia corrispondente questo è fondamentale perché se volete navigare in una tabella di dati in modo più di seguimento uguale a quella che è una tabella excel dovete tenere premuto il control alt e poi utilizzare le frecce e queste sono tutte le impostazioni diciamo per il web che secondo me sono importanti da conoscere qualche domanda non vedo mani alzate perché vi siete addormentati o perché le sconoscevate già Giuseppe a te la parola partecipa di sapere da parentesi vai Giuseppe quando mi faccio aiutare da mio figlio per mi presto un occhio insomma come diciamo tra di noi devo disabilitare Giuseppe cioè insert F4 c'è un modo per lavorare assieme cioè che mio figlio veda lo schermo e io possa sentire Giuseppe sì dopo lo vediamo sì è una delle impostazioni che vediamo più tardi sì 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 assolutamente sì grazie niente figurati Tommaso ti chiedo un aiuto perché Giuseppe non mi legge dentro la schermata dentro le schermate qualunque Tommy c'è ma starà 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 dormendo forse ha già abbandonato sì forse ha già abbandonato vabbè non importa allora andiamo avanti allora queste sono le impostazioni per il web poi c'è la modalità form mi ero segnato di parlarne in modo generico e farò in questo modo di default la modalità form ovvero la modalità in cui viene disattivato il cursore PC virtuale in modo che io possa accedere in modo che io possa accedere a un campo del form per scriverci dentro per esempio se è un campo editazione ok questa è la modalità form di default l'impostazione è che si attiva in modo automatico posso anche selezionare semi automatico o manuale ci sono altre impostazioni interessanti ma ritengo che siano piuttosto secondarie rispetto alla possibilità di selezionare appunto la modalità form che si attiva automaticamente semi automaticamente o in maniera manuale tanto per non farla troppo difficile in maniera manuale vuol dire che se io mi fermo all'interno di una pagina web in un campo editazione e voglio scrivere in quel campo editazione dovrò attivare manualmente la modalità form ovvero premere lo spazio dare invio Tommaso sei tornato? Tommy? Tommaso? modalità form vabbè modalità form l'abbiamo vista elaborazione testo l'altra impostazione di cui volevo parlarvi era l'elaborazione di testo però diciamo che con questo ne abbiamo parlato con Tommaso gli vorremmo dedicare un meeting per intero quindi elaborazione testo è molto importante vi faccio leggere soltanto quali sono le categorie contenute elaborazione testo generale generale elaborazione date e numeri correzione elaborazione lingue elaborazione lingue sono cose veramente molto importanti che proprio per questo motivo ne parleremo in seguito poi prolissità sintesi vocale prolissità sintesi vocale è evidente che sia molto importante questa impostazione ma è molto similare alla prolissità web ovvero io posso selezionare tra principiante intermedio e avanzato e anche impostare singolarmente le tre modalità quindi le tre configurazioni quindi principiante intermedio e avanzato ci tengo a però una impostazione contenuta qua che è attiva di default che è molto interessante che è questa attiva cronologia sintesi attiva cronologia sintesi nel momento in cui è configurata attiva come lo è di default io posso fare questa cosa con insert spazio e poi la h avrete questa cosa spazio attiva cronologia sintesi cronologia sintesi attiva cronologia sintesi configura livelli di prolissità livello di prolissità prolissità sintesi vocale prolissità sintesi vocale elaborazione lingue correzione elaborazione date e numeri allora mi sto spostando verso l'altro ok dall'ultimo messaggio che Joss mi ha detto attiva cronologia sintesi al mi sembra ventesimo o così via ovvero posso rileggere spostandomi con le frecce su e giù tutto ciò che Joss mi ha appena letto è molto interessante per certi aspetti può essere anche estremamente utile per accedere alla cronologia sintesi è insert spazio quindi menu a livello quindi l'h ok questo naturalmente posso farlo soltanto se l'attiva cronologia sintesi questa impostazione è attiva se fosse disattivata questa impostazione Joss non terrebbe memoria della cronologia sintesi ok opzioni sintesi opzioni sintesi opzioni sintesi questo contiene alcune novità da da almeno un annetto direi più o meno e quindi vorrei spiegarvela abbastanza abbastanza bene poi torniamo su un aspetto visto prima del web che mi ero segnato che può essere molto interessante poi dopo ci torno dopo allora opzioni sintesi ho anzitutto la possibilità di scegliere la modalità sintesi tra che cosa sintesi completa o sintesi ridotta modalità completa o sintesi ridotta la modalità completa diciamo che è la modalità tradizionale in Joss ok attenzione non stiamo parlando di livello di prolissità stiamo parlando di un'altra cosa perché e quando è stata attivata questa possibilità di scelta è stata attivata nel momento in cui Freedom Scientific o FIS spero che dir si voglia insomma quindi la società diciamo dietro al marchio Freedom Scientific ha acquistato iSquared ovvero il produttore di ZoomText nel momento in cui io sto utilizzando Fusion ovvero Joss e ZoomText avrei potrei avere la necessità di non avere una sintesi vocale sempre completa e sempre presente ma potrei avere appunto la necessità di avere una sintesi vocale ridotta ok e quindi avere una sintesi vocale che che mi completa quello che è ciò che ho a schermo che ingrandisco a schermo ma che non mi segue con questa puntualità che mi offre invece Joss quindi la prima modalità è modalità sintesi completa o modalità sintesi ridotta sotto nel momento in cui ho selezionato la modalità opzione sintesi ridotta e solo in questo caso posso selezionare tra sintesi su richiesta sintesi muta sintesi muta è evidente la sintesi è sempre zittita ok l'altra modalità sintesi su richiesta mi dà la possibilità di parlare dell'ultima opzione opzioni sintesi su richiesta opzioni sintesi su richiesta cioè se io ho opzionato sintesi su richiesta che cosa posso chiedere? consenti i comandi di lettura consenti i comandi di lettura ok quindi quando è attivata sintesi ridotta e quindi sintesi su richiesta posso attivare consenti i comandi di lettura quindi quelli che conosciamo insert freccia giù insert freccia giù non pa 5 chi più ne ha più ne metta poi consenti il riscontro mouse quindi quando io mi fermo su un certo testo per una certa quantità di secondi che vado a definire in zoom ok jose mi restituisce il testo inerente a quell'oggetto su cui io mi sono fermato o quel testo su cui mi sono fermato quindi mi legge il testo consenti il riscontro in digitazione e poi consenti il riscontro in digitazione posso attivarlo o meno ed è la possibilità di avere per caratteri parole o caratteri e parole un riscontro di quando digito è ovvio che queste opzioni sono inerenti all'uso che si può fare di jose in combinazione con zoom text ovvero fusion ovvero questo pacchetto che installa sui nostri pc sia jose sia jose sia zoom text ma che posso far partire insieme mi sono dimenticato di un'impostazione che prima invece volevo spiegarvi che sono torno indietro web html c'è una un ramo diciamo così che si chiama varie varie all'interno di questo varie di questo varie di questa categoria voglio parlare di tre impostazioni tre ma molto importante la prima attivazione link attivazione link allora attivazione link di default è impostato varie pagina attivazione link casella combinata quando do invio simulo il click del mouse quindi se posiziono il curso pc virtuale sul link che do invio è come se ci cliccassi col mouse la seconda opzione è invia passa il tasto invio quindi è una sorta di non so se ve lo ricordate l'altra settimana ne avevamo parlato io ho la possibilità di disattivare parzialmente o invece fisso il cursore pc virtuale quindi il filtro che Joe smette alla tastiera ok in questo caso lo faccio soltanto per quando il cursore pc virtuale è attivo sul link e quindi passo il tasto invio direttamente al browser direttamente alla pagina html che ne farà quello che crede a seconda di cosa è stato programmato l'altra impostazione che è molto 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 importante e anzi altri due sono molto importanti è visualizzazione ad albero livello 2 aggiorna se necessario 3 di 7 filtro aggiornamento pagina filtro aggiornamento pagina ci sono alcune pagine web banalmente quella dei giornali ma non soltanto quella dei giornali penso anche a chi magari tra di voi consulta periodicamente o spesso magari per lavoro le quotazioni dei titoli in borsa e così via ci sono pagine che in automatico si aggiornano questo potrebbe essere per tutti noi a dire il vero ma in particolar modo per un utente jose molto antipatico non riesco mai arrivare alla fine di una pagina perché quando la pagina si aggiorna jose di default torna all'inizio della pagina e rinizia da capo a leggere allora io posso mettere un filtro appunto all'aggiornamento delle pagine e le opzioni che ho sono aggiorna se necessario e quindi decide il programmatore colui che ha scritto la pagina web quando si deve aggiornare aggiorna ogni 60 secondi quindi una volta al minuto oppure annulla tutti gli aggiornamenti ok quindi non legge mai questa non aggiorna mai questa pagina poi ultimissima quindi sul web ancora dentro varie c'è un'opzione che si chiama visualizzazione ad albero attivato 7 di 7 per spostarvi o aprire gli elementi usate le frecce consenti tasti riservati ad applicazioni web consenti tasti riservati ad applicazioni web alcune applicazioni web facciamo l'esempio di facebook consenti tasti riservati ad applicazioni facciamo l'esempio di facebook perché è l'esempio forse più più interessante se volete all'interno del codice io posso mettere non soltanto un tasto per diciamo un tasto d'accesso rapido a quell'elemento ok o un tasto per sì un tasto d'accesso rapido a quell'elemento ok questi jose me li legge ma posso anche proprio indicare un tasto per fare una certa una certa operazione dedicato in special modo spesso questo lo dico da programmatore html agli screening reader faccio l'esempio di facebook perché è veramente fatto bene e molto interessante è talmente fatto bene che io non devo disattivare il cursore pc virtuale all'interno di facebook se questa opzione attiva ve la relego consente i tasti riservati ad applicazione web giù si accorge che l'applicazione web ha dei tasti riservati quelli per facebook sono ad esempio la j e la k per leggersi in avanti e indietro ok i post della mia home page della sezione notizie diciamo così quindi con k e la j mi sposto e giù legge i titoli ok dei vari post in avanti o all'indietro per mettere un mi piace a un certo post è la l ok c per aggiungere un commento a un post p per pubblicare uno stato nuovo ok provateli si naviga all'interno di facebook con una maggior come dire semplicità e anche un piacere insomma con maggior piacere godimento diciamo così ok naturalmente devo conoscere questi 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 tasti ma solitamente chi ha scritto chi è stato bravo come in questo caso facebook a scrivere il codice in un certo modo solitamente poi gli dedica anche una pagina in modo che tutti si possa capire quali e come utilizzarli avete domande? una mano alzata nessuna? Nicola vai adesso mi senti sicuramente sì ti sento allora questa cosa dei tasti riservati funziona anche quando il cursore pc virtuale è attivo o bisogna disattivare il cursore pc virtuale o comunque questi tasti effettivamente vanno a sovrascrivere diciamo così i tasti di navigazione rapida quindi in questo caso la k io su facebook non la posso usare per i marca come si chiamano allora ti rispondo per facebook allora ti rispondo ti rispondo facendo due esempi youtube l'abbiamo visto l'altra settimana loro hanno indicato quelle di google dei tasti diciamo così per fare certe operazioni ma non li hanno indicati nel codice ok come tasti riservati ad un'applicazione web questo ci obbligava a disattivare temporaneamente o meno il cursore pc virtuale per poter utilizzare quei tasti all'interno dell'applicazione web qua invece purtroppo non ve lo posso far vedere non so non so per quale motivo il mio jos non mi legge all'interno della di chrome non lo so ma se voi provate aprire un browser io dico chrome perché questo invece mi sento di suggerirlo insomma e utilizzate per esempio la g e la k sentirete senza senza scusami Nicola senza disabilitare il cursore pc virtuale in automatico jose vi legge i titoli dei vari post contenuti nella vostra home page nella sezione notizie chiaramente ok in avanti e indietro senza che disattivare il cursore pc virtuale questo secondo me è veramente ed estremamente utile ed interessante perché per esempio all'interno di facebook navigo in modo molto ma molto più 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 semplice estremamente semplice non so se state provando ma è così è veramente piacevole navigare all'interno della pagina di facebook non so più e proverò sicuramente grazie no figurati Nicola molto interessante altre domande? no non le vedo va bene allora procedo c'è un'altra impostazione secondo me molto molto interessante legata al dire tutto c'è un'impostazione che è questa ve la leggo dire tutto attiva tasti shift per avanzamento e riavvolgimento ok attiva tasti shift per avanzamento e riavvolgimento veloce durante il dire tutto allora utilizzando lo shift sinistro e lo shift destro separatamente separatamente vuol dire o lo shift sinistro o lo shift destro per essere più chiaro io ho la possibilità di di andare indietro o avanti nella lettura che Joe sta facendo ok è un po' è un po' strano se volete da utilizzare ma molto pratico se c'è qualcosa che non ho capito bene se voglio rileggere un attimo una cosa la parola prima oppure se voglio andare avanti velocemente perché non mi interessa quello che mi sta leggendo Joe è estremamente interessante e quindi vi prego di provarlo utilizzarlo laddove laddove fosse per voi utile questo questa modalità di lettura diciamo poi è una modalità di lettura insomma quindi shift sinistro e destro di default è attivo provatelo provatelo volevo vedere se per caso varie varie va bene l'altra opzione di cui vi volevo parlare è la punteggiatura la punteggiatura che è un'opzione che ne contiene altre a dire il vero punteggiatura ne contiene punteggiatura diciamo due ma che meritano che voi gli prestiate un po' d'attenzione allora dentro l'albero punteggiatura ci sono due sole opzioni che sono personalizza punteggiatura punto 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 livello punteggiatura ok livello punteggiatura e personalizza punteggiatura sono messo in quest'ordine ma forse andrebbe fatto il contrario livello di punteggiatura io posso selezione livello punteggiatura casella combinata volta tre di quattro per cambiare la selezione nessuna qualcosa tutta ok poi però come per la prolissità just mi permette visualizzazione ad albero livello punteggiatura pagina visualizzazione ad elenco punto esclamativo tutta uno di 65 per attivare premete spazio sentite perché intanto che parlava Joe parlavo anch'io sentite la seconda la secondo secondo simbolo di punteggiatura cosa vi legge Joe non ve lo legge più ve lo leggo io allora ci sono come simbolo le due virgolette la descrizione è virgolette il livello di quando ho letto è molta io posso personalizzare tutto posso modificare che cosa lega Joe all'interno di un di un testo quando trova appunto il simbolo delle due virgolette e posso anche dirgli quando leggerlo cioè per quale livello leggerlo ok qua c'è che lo legge soltanto per molta quindi se seleziono per esempio media le virgolette non me le leggerà ok posso invece andare a dare io un'impostazione molto fine se volete su quando voglio sentire le virgolette su quando voglio che Joe mi legga le virgolette e così ci sono tantissime altre opzioni e posso anche modificarmelo naturalmente invece di leggere virgolette potrei voler sentire due virgole o doppia virgoletta non ha senso ma era era tanto per per intendersi ok ci sono tutti i simboli ok dalla e commerciale alle parentesi e il più il meno la barra e poi c'è l'apostrofo le virgolette l'elenco puntato i semicerchi a sinistra a destra l'asterisco diciamo che sono stati elencati sono elencati qui tutte le 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 punteggiature che io posso che io posso trovare è una di quelle impostazioni che se utilizzata può modificare la modalità con cui io davvero ascolto Jos leggere le il testo Paolo ho letto la tua chat a Paolo rimane un po' indigesta questa questa impostazione poi ci dirai per quale motivo ci sono ci sono domande no allora vado avanti paolo prego no no stavo dicendo l'ho scritto io però non mi riuscivo mai capire poi dopo sì un pochino fra il discorso la maggior parte quando è impostata su molta la punteggiatura viene letta da molta in poi giusto da molta valendo molta vuol dire tutta sostanzialmente livello no scusa c'è tutta molta qualcosa nessuna perdone tutta molta però se tu la imposti se tu la imposti per esempio che ne so qualcosa qualcosa ti la legge da qualcosa in poi non da qualcosa in giù no ti legge da qualcosa in giù quindi ti legge no ma ti legge no ma tu con certezza puoi vedere cosa ti legge perché nel momento in cui tu fai personalizza punteggiatura ok vedi di ogni singolo simbolo di punteggiatura se te lo legge per quel livello o un livello superiore chiaramente cioè qualcosa ti legge qualcosa e il livello nessuna molta ti legge quello che è contenuto in molta e in qualcosa e in nessuna tutta tutta devo essere stato chiaro Paolo sì sì no ma ti ripeto ogni tanto a me mi rimaneva sempre un po' sai sono quelle cose che uno boh così no 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 hai fatto bene a dirlo mi faceva ridere il tuo infatti io ma poi non c'è anche il fatto che queste impostazioni sono solo per la default o anche specifiche per applicazioni no per applicazioni no è soltanto di default eh vedi appunto sì sì non riesci a gestirle per tutto va bene grazie Paolo Nicola partecipa di sapere da parentesi tonda così chiaramente ad esempio il punto esclamativo che è impostato su tutta vuol dire che tu sentirai proprio la parola esclamativo tipo se io ti scrivo ciao punto esclamativo quando tu leggi riga per riga o anche col dire tutto lui ti dirà ciao punto esclamativo solo se hai selezionato tutta se tu selezioni molta lui ti dirà ciao e basta non ti legge il punto esclamativo cioè come diceva Paolo è da livello in su cioè nel senso è chiaro che se io seleziono qualcosa gli metto molta mi viene letta sia che poi abbia impostato la punteggiatura su molta sia che l'abbia impostata su tutta perché si presume che tutta la legge tutta ecco in quel senso lì certo chiaro invece sul fatto di personalizzarla per applicazione credo che tu per applicazione puoi scegliere il livello di punteggiatura cioè tu in un editor magari dove scrivi codice sorgente dove vuoi che ti legga tu puoi impostare su tutta no no Nicola perdone no Nicola no tutte e due le impostazioni sono disponibili solo di default ah ok va bene non avevo provato infatti no no non c'è mica problema figurati poi volevo vedere un'altra un'altra cosa che è tastiera all'interno di tastiera ci sono un paio di cose che aspetta c'è forse se sto usando il comando leggi tutto posso al volo passare la punteggiatura nessuno una domanda Giovanni allora ho la possibilità aspetta adesso te lo dico default per cariast personale punteggiatura no non ho la possibilità di passare da una all'altra rapidamente se c'è non lo conosco generale generale Elena volevi dire qualcosa no no ah scusa partecipa a sapere da parere zom ah ho capito non lo so se posso dedicare un tasto al passare a caldo diciamo così da un livello di punteggiatura all'altro è una buona domanda non so se esiste approfondirò l'argomento me lo segno e l'approfondisco non lo so non lo so al momento la mia risposta è che no non c'è però 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 ci guardo Danilo vai partecipa a sapere Danilo Danilo mi senti si adesso si ah ok scusami con gli auricolari dentro non mi si non parla mi sa che con insert 2 si può modificare al volo alla punteggiatura passaggio mi metti in difficoltà parole no no scusami con insert 2 no 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 con insert 2 sentite cosa dice il mio Giosi caratteri e parole nessuno no no ok è la digitazione la digitazione pardon niente partecipa a sapere zogro cazzi fosse solo quello riprendiamo allora c'è all'interno di dell'impostazione tastiera un paio di cose che possono essere interessanti la prima è la possibilità di attivare la tastiera schermo ok quindi nel momento in cui attiva tastiera schermo ok nel momento in cui io attivo questa 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 stazione ok ricordatevi che interagite con le impostazioni sempre con con lo spazio ok sostanzialmente si attiva una tastiera appunto a schermo è un'impostazione disponibile solo di default ok ed è maggiormente interessante beh no poi pensatela voi io raramente la trovo una cosa interessante all'interno invece di dell'impostazione tastiera in generale ci sono alcune impostazioni le cito soltanto però fondamentale i tasti rapidi di navigazione che possono essere disattivati o attivati ok oppure attivi solo durante il dire tutto c'è la scelta del tasto insert su come comportarsi col tasto insert se utilizzare il tasto insert solo del tastiere numerico anche dalla tastiera estesa e così via e questo è importante almeno io spesso l'ho utilizzato lo stato iniziale del tasto numlock ok quindi il tastiere numerico disattivo di default all'avvio l'altra cosa interessante è attiva tastiera schermo gestisci etichette tasti punto 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 ok gestisci etichette tasti spazio gestisci etichette tasti finestra di dialogo listo una visualizzazione ad elenco ad più letto uno di 84 per spostarvi tra gli elementi usati e le frete ok allora la selezione la selezione gestisce etichette tasti vi apre se date appunto lo spazio vi apre la 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 come si dice la un'ulteriore interfaccia dove per ogni tasto vi viene letto qual è l'etichetta di quel tasto ovvero quando premete quel tasto che cosa vi viene letto da Jaws ad esempio per back che è il tasto si chiama back viene letto backspace ok ed è letto oppure posso mettere se lo voglio zittito letto ok quindi posso dire se viene letto o zittito ok queste sono le possibilità che ho posso chiedergli di zittirlo oppure di di leggermelo sempre comunque per alcuni tasti come per esempio il tasto alt e il tasto windows di sinistra è sempre letto non posso zittirlo del tutto insomma almeno mi sembra spazio gestisci etichette tasti trattino gestisci etichette tasti finestra di dialogo centro impostazioni di javs finestra di dialogo impossibile cambiare lo stato di esittimento barra lettura di shift dato che questo tasto viene usato in combinazione con altri ok il pulsante per attivare premete spazio quindi joso nel caso in cui cerchi di modificare se letto o non letto di alcuni tasti diciamo particolari mi dice che non è possibile farlo ok così come ho detto per il per il tasto shift a seguito delle impostazioni generali della tastiera ok vi invito ad andarla a vedere un po' perché ci sono alcune appunto importanti c'è anche tastiera talk la tastiera talk o la tastiera touch sarebbe meglio questa è relativa alla tastiera touch sono le impostazioni relative alla tastiera touch io onestamente non l'ho mai non l'ho mai utilizzata e non ho mai trovato alcun utente joso che utilizzi dei dispositivi dove possa essere utile la tastiera touch se qualcuno invece lo utilizza mi faccio sapere che volentieri magari ne parliamo o lo vediamo lo vediamo insomma evidenziazione personalizzata evidenziazione configura colori di evidenziazione punto evidenziazione personalizzata non so se qualcuno domanda su questa cosa paolo si non lo so paolo dice che ha un sogno cioè che parta di default con tutti i tasti zittiti ognuno può essere imposta di suo puoi farlo accedi a quell'impostazione che abbiamo visto adesso legato alla tastiera etichetta tasti e poi modificarli è una cosa che puoi fare vedi tu vedi tu allora c'erano alcune altre cavolo sono già le 7.20 alcune altre impostazioni che volevo farvi vedere una ve la ve la leggo subito che è trascinamento visivo questo l'aveva chiesto prima Giuseppe se non ricordo male allora di default è disattivato si può attivare questa opzione trascinamento visivo evidenzia il cursore pc virtuale evidenzia il cursore evidenzia il cursore pc virtuale questa cosa funziona in internet explorer chrome firefox adobe reader e microsoft mail sostanzialmente io ho la possibilità di evidenziare il cursore pc virtuale ovvero ovvero andare a creare attorno al cursore pc virtuale quindi dov'è posizionata in quel momento Giuse un box una un'evidenziazione grafica con un certo colore una certa trasparenza uno spessore una spaziatura a che cosa serve è evidente che serve in soli due casi serve A per colui che sta programmando una certa applicazione o una certa pagina web per andare a vedere come si sposta Giuse B se sono affiancato come nel caso di cui parlava prima Giuseppe da mio figlio da un insegnante o sono un insegnante di sostegno e voglio dare supporto a un utente Giuse spesso la gente che segue i miei corsi e così via vedenti mi dicono ma la sintesi ha letto qualcosa che non ho capito ma dov'è questa cosa ma come mai dice così ma perché dice così ma pensavo che ecco questa evidenzia del cursore PC virtuale mi ha risolto e risolve parzialmente questo problema devo dire che io la trovo un argomento estremamente utile devo dire molto 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 utile Laura dopo ti rispondo ok l'evidenziazione posso abilitarla per il cursore PC virtuale per il cursore touch e per il ribbon virtuale ok per i ribbon virtuali per il cursore touch questa impostazione è attiva di default per il cursore PC virtuale invece è disattiva di default attenzione a non fare confusione il cursore touch l'abbiamo già visto una precedente volta non è il cursore legato al 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 touchscreen è un'altra cosa vi invito ad andare a vedere su youtube la puntata dedicata ai cursori di Joss poi abbiamo un'ultima un poche altre impostazioni dentro la dentro le impostazioni diciamo così varie categorie varie la prima importante ne abbiamo parlato adesso qui posso abilitare o disabilitare di default ovviamente il ribbon virtuale quindi non mi piace la visualizzazione il menu nuovo che ha creato Microsoft posso ricreare il menu diciamo tradizionale virtualmente grazie a Joss attivando l'impostazione usa menu ribbon virtuali usa menu ribbon virtuali ok altra cosa e questo è uno sguardo al futuro è questo attimo di silenzio e sentite usa il driver di accessibilità per la cattura schermo ok usa il driver di accessibilità per la cattura schermo di default è attivo vuol dire che cosa vuol dire che Joss utilizzerà il video driver intercept che da sempre caratterizza Joss per andare a beccarsi diciamo così il testo contenuto in una certa finestra oggetto o che dir si voglia se con lo spazio disattivo questa opzione sostanzialmente Joss disattiva il video driver intersept e utilizza un nuovo sistema di accesso diretto al testi al testo contenuto o il testo presente a schermo in fase di sviluppo dal no perdone fase di sviluppo da parecchi anni è disponibile come prima versione in Joss 2018 quindi da due anni in realtà era naturalmente sviluppo prima diciamo che da Windows 8 in avanti grazie agli sviluppi che ha fatto Microsoft questo secondo sistema gli inglesi chiamano hook system per agganciarsi al al testo su certi su certe finestre è indispensabile quindi non è una questione di efficienza o meno è indispensabile per andare a intercettare con degli script ad esempio all'interno dal tune schermate il testo questo è il futuro di Joss il futuro di Joss è la possibilità di non installare più il video driver intercept parlando sempre di futuro Laura chiedeva se un domani si potesse utilizzare Joss con dei comandi vocali una volta tanti anni fa c'era c'era soltanto per la lingua inglese c'era un programma che interfacciava Joss con Dragon Dictate e permetteva quindi un uso promiscuo diciamo così del computer attraverso Joss e i comandi vocali non è stato più sviluppato questa interazione al momento funziona molto male quindi nel futuro remoto non lo so in un futuro prossimo direi che non è preventivabile l'utilizzo con comandi vocali di dare dei comandi diretti a Joss può essere invece e già oggi si può fare non l'ho mai provato non l'utilizzo però si potrebbe utilizzare il i comandi vocali di Windows e vedere Joss come si comporta andando come dire seguirlo ecco seguirlo senza avere dei comandi specifici però non comando direttamente Joss con dei comandi vocali e ripeto nel futuro prossimo non è in alcun modo preventivabile questa cosa ecco allora poi sempre dentro varie diamo uno sguardo un attimo al futuro perché ci sono due cose a cui faceva riferimento Erick quando ha partecipato al nostro incontro e sono queste due impostazioni che sono invia dati anonimi di utilizzo e report errori il primo invia dati anonimi di utilizzo invia anonimamente appunto a Freedom Scientific come utilizzo il mio Joss questo fa sì che loro svilupperanno miglioreranno le funzioni che più vengono utilizzate non tanto da me ovviamente ma da tutti invece report errori è una cosa che è molto utile questo vi invito a utilizzarlo c'è la possibilità di inviare un dump quindi un log degli errori che commette Joss diciamo quindi quando cresce per esempio Joss si possono inviare a Freedom i dati inerenti al perché è cresciato chiaramente non sempre questo è possibile perché se cresce di botto non è in grado neanche di creare un file di log che possa essere utile ma in altri casi invece è stato utile quella famosa usa driver accessibili io sono stato fra i primi a utilizzare questo nuovo sistema di aggancio del testo perché avevo e lavoro tuttora con un cliente per me importante e all'interno della loro applicazione con Windows 10 Joss non leggeva niente era però soltanto in versione beta quindi per attivare questo nuovo hook system dovevo scrivere nel default un certo codice e però Joss cresciava davvero spesso grazie a questi a questi file di report credo che questo sistema anzi non credo sicuramente questo sistema è diventato più consistente quindi Joss non crescia più poi magari sull'efficienza bisogna ancora un po' lavorarci ma ci stiamo arrivando Paolo vai spara la domanda volevo dire ma questa cosa degli errori di inviare gli errori a Joss non c'era ogni tanto a me anche in passato mi si apriva la finestrella che diceva vuoi inviare questo errore sì qua semplicemente nelle impostazioni tu hai tre scelte che sono chiedi se voglio inviare i report ok inviali sempre comunque o non li inviarli mai quindi diciamo che hanno aggiunto la possibilità di non è diciamo così che non mi chieda tutte le volte se voglio ecco ho capito va bene Giulie scusami non ho capito la domanda che hai fatto via chat me la puoi ripetere era questa dicevo che non c'era no no Paolo scusami la tua l'ho capita perfettamente era la domanda di Giulie che non l'ho capito no la mia non era una domanda mi senti mi senti si ti sento no la mia non era una domanda è che prima mi è sembrato che tu avessi detto che tipo il tasto backspace non si potesse mai far zittire da Joseph alcuni tasti si però se tu vai in basi e disattivi tasto di accesso mi pare non ti legge nessun tasto non te ne legge nessuno però non so se questo funziona anche per quei pochissimi tasti tipo il control lo shift no no funziona perché io lo uso così ah scusami scusami no io giusto meno parlo è meglio sì no no ti credo era solo un'informazione ero convinto ma perdona mia ignoranza che quei tasti che lui indicava come sempre letti non potessero essere disattivati perdona in centro impostazioni no devi andare in basi ok ok pensavo che fossero collegate le due cose no era solo un dettaglio no 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 hai fatto bene hai fatto bene a dirlo hai fatto bene a dirlo ultima cosa sul centro impostazioni ultime due cose sul centro impostazioni molto importante l'ultima voce del centro impostazioni è tipo messaggio R no default aperta parentesi tonda tutte le applicazioni chiusa parentesi tonda trattino centro impostazioni di javas finestra reporter ultime impostazioni modificate ultime impostazioni modificate è un nodo dell'albero quindi devo aprirle ultime impostazioni modificate livello di prolissità web seleziona l'albero schema sintesi ok qua sono contenuto l'elenco ok delle ultime impostazioni che ho modificato fondamentale fondamentale perché perché se un'impostazione non mi piace non l'ho capita non non mi ricordo più però dov'era e qual'era ok qua le trovo tutte per me è fondamentale non avendo io una gran memoria qua trovo le ultime impostazioni che ho modificato in questo modo posso diciamo così correggere o modificare quelle impostazioni vediamo un'altra cosa allora chiudo il centro impostazioni con l'escape centro impostazioni di no invio trattino fine passaggio vado in croma ok dove ho aperto ad esempio ok la la pagina del corriere una pagina a caso allora se io faccio insert 6 e apro il centro impostazioni chrome trattino centro ok mi dice chrome 100 impostazioni se io col shift tab vado nelle applicazione due punti casella combinata chrome 30 di 214 per cambiare la selezione e uso il tasto home per andare in cima o default una volta freccia giù non me l'ha preso chrome trattino centro impostazione applicazione due punti casella con doppia v alt freccia sinistra perdon fa le bizze il mio il mio il mio escape prova a rifare scusatemi me vedi vengono fare passaggio vengono vengono passaggio prova a tornarci allora mi sa che con zoom aperto non lo fa ci riprovo chrome trattino applicazione due punti casella combinazione Non lo fa, mi spiace. Allora, se voi aprite il centro di impostazione Insert 6, per esempio da Chrome, ok, in automatico vi apre il centro di impostazioni e come applicazione preselezionata c'è Chrome, perfetto. Se voi andate in cima a questo elenco col tasto Home, ok, c'è default. Se fate una volta a freccia giù troverete www, ok, e il dominio per cui volete salvare quelle impostazioni, ovvero alcune impostazioni, ok, possono essere valide solo ed esclusivamente per quel dominio, ovvero per tutte le pagine contenute in quel dominio e nei sottodomini contenuti in quel dominio. Ok, questa è una cosa molto, molto, molto interessante, estremamente utile e interessante per poter lavorare al meglio con Josu. Mi spiace, non ve lo posso far vedere, colpa mia, non ho capito perché Josu all'interno di Zoom stasera non funziona bene. Ultimissima cosa del centro di impostazioni, se io vado, se io ho combinato qualche disastro, cioè c'è qualche cosa che non funziona in modo corretto, ok, se io entro nella cartella delle impostazioni personali e la cancello per intero, ok, quindi cancello tutte le impostazioni personali contenute, io riparto da zero. Quindi Josu dimentica, diciamo così, gli ho cancellato tutte le impostazioni che avevo fatto, anche quelle di default, e se lo chiudo e lo riavvio, partirà come se non avessi mai fatto partire Josu e quindi mi chiede di effettuare le impostazioni di base e poi successivamente posso, attraverso il centro impostazioni, impostare tutte le cose che preferisco. Escaire. Ci sono delle domande? Paolo, vai. No, volevo dire a proposito delle ultime impostazioni di prima che avevo alzato la mano. Sì, scusami, certo. No, ti dicevo, ma quando vado io su una di quelle ultime impostazioni e che ci dico su, mi riporta... No, no, scusami Paolo. No, non ti riporta l'impostazione precedente, no. Io con lo spazio posso modificare quella impostazione. Ah, ecco, no, pensavo che mi riannullasse. No, sarebbe bello, hai ragione. È un suggerimento da dare, ma no, 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 non si può fare. Va bene. Non si può fare, mi spiace. Non credo sia possibile per un motivo, perché... Sì, scusami, dimmi. No, dicevo, ma quella che dicevi adesso, dov'è che vado a cancellare? Forse... Allora, se tu apri un browser, ok, e digiti... Stai parlando delle impostazioni per dominio? No, 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 queste sono interessantissime e io a volte le uso. No, dicevo, hai detto che in fondo si può cancellare completamente tutto. La sprofessionale. Certo. Allora, se io vado all'interno della cartellina che contiene le mie impostazioni, ok, e lo posso fare in questo modo, da menu digioso, utility, esplora cartella utility, se io lo apro, apre un esplora file, banalmente, in cui in quella cartella sono contenute tutte le mie impostazioni personali, quindi quelle dedicate a un dominio, quelle dedicate a una certa applicazione, e anche quelle di default, che io eventualmente ho cambiato. Io posso, in quel caso, fare, diciamo, due cose. La prima, cancellare tutto e riparto da zero. Da zero completamente. Oppure, cancellare solo quelle impostazioni per un certo dominio, oppure una certa applicazione che non funzionano, o che non mi piacciono più. Quindi devo sapere il file che... Beh, ma lo capisco subito, perché si chiama, non so, Chrome JCF. È evidente che sono le impostazioni per Chrome. Se io avessi fatto delle impostazioni per www.coriere.it, sarebbe www.coriere.it.jcf. Allora è evidente che è per quel dominio. È intuitiva, intuitiva. Sì, è abbastanza intuitiva. Va bene. Sì, 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 assolutamente. Nicola, vai. Allora, siccome mi incuriosiva veramente questa cosa delle impostazioni personalizzate per il web, allora io ho fatto una prova. Effettivamente anch'io aprendo Chrome e aprendo il centro impostazioni, non mi dava la voce, come dici tu, non so, repubblica.it o... Guarda, Nicola... No, dico, la prova che ho fatto io è questa. Quando tu apri Chrome il cursore si posiziona sulla barra dell'indirizzo. Sì. Tu invece lo devi posizionare sulla pagina web, diciamo. Io ho premuto tab, lui è andato ovviamente sulla pagina di Google perché mi si apre così, ovviamente, no? Sì. A quel punto, facendo il giro che dici tu, insert 6, shift tab, eccetera, eccetera, lui ti dice local domain qualcosa. No, no, io ti do ragione. A me stasera non funziona perché, secondo me, è col fatto che ho fatto lo share dello schermo. Sì, perché mi dice la pagina web in modo diverso. Non mi funziona, non so perché... Devo capire meglio come funziona con Zoom, allo Joseph. Passaggio da un programma all'altro. Mi spiace. Per gli altri, per noi facciamo le prove da casa, l'importante è essere dentro la pagina web, cioè che si attiva il cursore PC virtuale e lui comincia a ripilare. Il cursore PC virtuale. Allora, lì puoi fare quella manovra lì ed effettivamente ci sono le impostazioni per il sito web. Sì, ed è estremamente interessante perché, per esempio, una delle impostazioni che abbiamo trattato oggi era l'aggiornamento, il filtro dell'aggiornamento pagina. È evidente che in un sito come quello del Corriere, ma anche di altri, ma quello del Corriere in particolar modo l'aggiornamento avviene abbastanza di frequente e io non riesco mai ad arrivare in fondo alla pagina, benedettissima. Allora, per quella pagina lì mi interessa che non venga aggiornata, è chiaro. Poi dopo posso aggiornarla io con l'F5, ma questo è un comando del browser. Certo. Un altro suggerimento così che mi permetto di dare per le impostazioni per singolo sito è il riconoscimento della lingua. Ovviamente che fa un senso per chi conosce l'inglese o comunque... Il sito è fatto bene ed è giusto che legga in inglese, perché scritto in inglese a me va anche bene, di sentire Joseph che legge con la voce inglese. Spesso capita che ci sono siti italiani che, siccome sono scritti male, Joseph crede che siano in inglese e comincia a leggerti con la voce inglese, seggere parole italiane. Allora lì... Il sito è aperto a parentesi tonda 30... ...di attivare questo comportamento per tutti i siti o in generale di Jaws, allora vado sito per sito, gli dicono in questo sito non devi riconoscere la lingua. Questo è il mio contributo. Sì, sì. No, no, è molto utile. Grazie, Nicola. Volevo trattare, abbiamo soltanto pochi minuti, insomma, ma lo volevo dire, poi al limite ci ritroviamo un'altra volta su questa cosa. Alessandro, ho letto la tua chat, ne parleremo in un prossimo appuntamento. ...delle impostazioni rapide, a cui si accede con insert e la V di Verona, ok? Allora qua noi troviamo delle impostazioni valide per, ad esempio, io ero dentro a... ...impostazioni rapide trattino... ...a, come si dice, a Chrome. Le impostazioni rapide per Chrome contiene una... ...visualizzazione ad albero ed lettura a livello interno. Alcune impostazioni che, alcune non sono neanche presente nel centro di impostazioni e in altro caso invece sono, è ridotto il numero delle impostazioni contenute, diciamo così. Nicola, prima facciamo una domanda fondamentale. Allora, interagisco all'interno di questo, diciamo, centro di impostazioni ridotto, passatemi il termine, nello stesso modo del centro di impostazioni completo, ...quindi con lo spazio, col tab vado a leggere la descrizione di ogni singola, di ogni singola voce. Però, una... ...perché serve questa impostazione? Perché una volta che io ho selezionato una certa impostazione, ad esempio... ...usa suoni... ...usa suoni... Se io uso il tasto per accedere al menu contestuale, ho la possibilità di selezionare tre voci. Quella preselezionata è salva l'impostazione, quindi tutte le impostazioni che trovo dentro il centro impostazioni, rapide, quindi impostazioni rapide, sono salvate, sono salvate, non sono temporanee. Una volta c'era questa misunderstanding, quali sono temporanee e quale no. Adesso sono tutte salvate, quindi non sono temporanee. Oppure, ho la possibilità di selezionare che per quella impostazione che io sto modificando, ho due possibilità. La prima, ripristina impostazione quando si chiude JAWS. Quindi, se chiudo JAWS e lo reattivo, quella impostazione torna all'impostazione di prima, di prima che la modificassi. Seconda possibilità, ripristina l'impostazione quando cambio il focus. Quindi, ho fatto una modifica, o meglio, mi sto... ...sto provando a fare una modifica, ma voglio che nel momento in cui io esco e entro, per esempio, da Chrome, quella modifica venga persa. Perché? Perché non sono così sicuro che poi mi possa piacere, ok? Quindi, la voce da selezionare è ripristina impostazione quando cambio il focus. Quindi, ripeto, insert V per accedere al pannello delle impostazioni rapide, che è un sotto insieme, se vogliamo, del centro impostazioni, con alcune voci magari leggermente diverse. Poi, una volta che ho selezionato l'opzione che io voglio modificare, interagisco con questa opzione sempre con la barra spaziatrici. Tutte le impostazioni contenute nelle impostazioni rapide vengono salvate se io do l'invio. Non sono più temporane, come una volta. Se io invece voglio provare questa impostazione modificata, devo selezionare il menu contestuale, una volta selezionata questa impostazione, e selezionare una tra le due possibilità. La prima, ripristina impostazione quando si chiude JAWS. Devo chiudere JAWS e l'impostazione viene riportata al valore precedente. Oppure, ripristina impostazione quando cambio il focus. Quindi, se è un'impostazione per Word, ad esempio, con l'alt tab mi sposto e vado in Outlook, quando torno in Word, quell'impostazione l'ho persa. Spero che sia stato chiaro. Perché comunque è una cosa importante. Sì, Paolo, sì, domani. Mi puoi chiamare tutte le volte che vuoi, ma domani dopo devo preparare la cena. Domande? Domande? Nessuna. Allora, se non ci sono domande, mi scuso, sono andato un po' lungo, probabilmente... Aspetta che interrompo la registrazione. Allora, interrompo la...